E ora signore e signori vi presentiamo la corsa più pazza del video mondo ludico, le Toy Box Turbo Races, dove gli sfidanti di tutto il mondo arriveranno qui per scontrarsi l'uno contro l'altro in una gara senza vita e senza regole, e dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo di campione del Toy Box Turbo Races. Sono sulla linea di partenza, la prima vettura è la betoniera di Donnino, in tutta la sua possenza, lo seguo a rota a Florenzo con il suo scavatore impazzito. In terza posizione troviamo l'autobus di linea 4 barrato e subito dopo la Jeep di zio Tom, poi il supergenio dei motori, John Furgoncini, con il suo motore da surfista. A breve distanza la magnifica Pina Lamborghini con la sua vettura da golf e viene fuori la trebbiatrice dei fratelli Gurg e Gorga, i contadini del Sud America e dietro la macchina della vecchia polizia pilotata da Sergei Molto. Dietro concentratissimo Mighty Max con il suo Monster Truck e in penultima posizione Pino Paperotto con il suo carattrezio. All'ultimo posto troviamo la macchina dello zio Rex e di Kingpin Zero, intenti come sempre di scogitare qualche sporco trucco al limite del regolamento. Ma ecco che sono partiti, si presenterà una magnifica corsa con le Toy Box Turbo Races. A voi la linea! E benvenuti ancora qui ragazzi a The Great Pills of Gaming. Io sono lo zio Rex, con me fra poco ci sarà anche il Kingpin per la sezione multiplayer, ma di cose di Toy Box Turbo. Che cosa vi ricordano queste macchinine così piccole e così divertenti? Ma niente po' po' di meno che le Micro Machine di un vecchio tempo che fu. Tutti noi le avevamo a casa e tutti noi ci giocavamo con i nostri piccoli amici che ovviamente con noi gestivano delle piccole gare, un po' tutte fantasie. Ma tralasciando la fantasia noi entriamo direttamente nel mondo delle corse. Gli sviluppatori sono appunto come possiamo ricordare i Codemasters e l'uscita è stata data nel 2014, gira su PC, X360 e PS3 e come tipologia un arcade gioco di guida. È un gioco di guida visto dall'alto. Ecco, come possiamo vedere noi all'inizio di ogni gara possiamo scegliere le macchine con cui gareggiare, alcune sono inscatolate e possono essere comprate solamente con le monete. Monete che si guadagnano solo ed esclusivamente facendo il single player. Ora vediamo ovviamente l'inizio della gara che è una gara semplice da ovviamente dobbiamo arrivare primi, secondi o terzi, certo potremmo anche arrivare quarti ma non è consigliabile e vediamo come si devono collezionare appunto le monete. In ogni gara, in ogni stage ci sono dei piccoli parchi regalo. Questi parchi regalo non sono nient'altro che le armi e ovviamente i sotterfuggi che i piloti possono utilizzare per far sì che gli altri sfidanti rallentino o addirittura esplodano e quindi padano fuori gara. Allora, voi vi domanderete ma io questa parte l'ho già vista o comunque ricorda qualcosa? Esatto, se non ricordate o comunque se ci pensate ricorda comunque Mario Kart e simile dove si possono utilizzare appunto delle armi o delle escamotage appunto per arrivare prima. Allora, se parliamo di Toybox Turbos possiamo dire che ci sono 18 tracciati diversi e 35 veicoli collezionabili, non ricordo se l'ho detto prima perché comunque quando parlo, lo avete mai capito, parlo a manetta e quindi non ricordo precisamente quello che dico prima. Però possiamo dire che ogni gara o comunque ogni sfida ha un boss finale. Le sfide si separano o comunque vengono, diciamo così, diversificate da appunto le macchine che gareggiano sulla pista. Quindi possiamo avere gli autobus che ovviamente li vedremo poi dopo anche nel multiplayer e potete utilizzare appunto i tipi di trasporto o comunque la modalità costruttori che la stiamo vedendo adesso dove ci sono ruspe e roba del genere. Questo per esempio è uno scenario di fuga. Voi dovrete fuggire da quella sottospecie di onda elettromagnetica azzurra che se vi colpirà praticamente perderete lo stage. Voi dovete soltanto che arrivare a fare più tragitto possibile, più metri possibile. Fra poco io vi farò vedere come o cosa succede più che altro, quando si rallenta e quando si perde e quindi ovviamente tutte le pecche di questa svista. Allora, ritornavamo appunto sui giochi. Ecco appunto, vediamo come si conclude la gara, quindi perdendo. Ritorniamo appunto sui giochi. Scusate. Allora, parliamo un po' di pro e di contro subito subito. Non possiamo non vedere alcuni contro e voi sapete bene che quando parlo dei contro all'inizio vuol dire che il gioco mi è piaciuto e diremo perché dopo. Allora, non offre effettivamente nulla di nuovo rispetto ai videogiochi del passato. È molto identico a Micro Machine, quindi non ha quella scintilla di sviluppo. Oltretutto non ha motoscafi ed elicotri, quindi non ha una grossa varietà di mezzi con cui poter gareggiare contro gli amici o con gli amici. E soprattutto le campagne in single player sono veramente brevi. Ci sono solo ed esclusivamente tre giri di pista che magari spesso e volentieri possono anche risultare carini, ma altre volte comunque risultano un po' troppo brevi. Mentre invece, se vogliamo parlare invece dei pro, è estremamente divertente e competitivo, soprattutto quando si parlerà e si giocherà nel multiplayer e lo vedremo fra poco. Quindi contro quattro persone e soprattutto con il multiplayer sarà competitivo e divertente. È un nuovo capitolo delle Micro Machine e senza licenza, quindi questo ci permette anche un budget molto riduttivo e difatti il prezzo è accessibile e soprattutto è tecnicamente curato. Vediamo adesso la parte del boss finale e questa praticamente è quella che racchiude il succo del multiplayer, ovvero solo ed esclusivamente una gara ad eliminazione. Potrete usare tutti i trucchi possibili e immaginabili, tra le mine, al mitragliatore, al martello, allo shock e quanto altro. Tutto è accettato purché si vinca e purché vinciate. Ovviamente quando si vince contro un boss, il boss vi regalerà, comunque vincerete il suo veicolo. In questo caso io se vinco e vincerò, perché comunque già l'ho fatta, ho acquisito, ho acquistato praticamente il bolide che usa il mio avversario, che non posso comprare ovviamente, normalmente dai pacchetti che vediamo nel main menu. Allora, ecco che io appunto ho vinto e vi farò vedere adesso più avanti altre piccole chicche. ovviamente non ha pesantezza per quanto riguarda la parte grafica, potete metterlo al massimo anche con i vecchi o non troppo nuovi pc. Il sonoro è molto simpatico, i clacson delle macchine sono variegate, come ovviamente potete modificare le macchine stesse solo con i colori e non ovviamente con velocità, stabilità e ovviamente peso. e soprattutto, come vi dicevo, ogni macchina ha un suo clacson. Ma ora, bando alle ciancio, ciancio alle bande, io vi saluto e passo la linea al multiplayer con il buon Kingpin. Ciao ragazzi, a fra poco! Ed eccoci ancora qui, grazie alla santa e sacra partecipazione del Kingpin che ci è venuta a dare una mano che ci è venuta a dare una mano per quanto riguardava il multiplayer di cui vi parlavo ovviamente anche durante il single player. Una cosa molto cellera, ma adesso stiamo appunto delineando la descrizione di questo gioco. Allora, il multiplayer, come avete visto, non è nient'altro, come vi dicevo, non è nient'altro che la... Mori Marrano. Praticamente è come il single player. Esatto, è praticamente la sfida finale dei boss e del single player. Ovviamente Toybox, Turbos o Turbo, ma in questo caso c'è la S quindi va pronunciata, quindi Turbos ha solo... No, poi sta pure, tu dici Toybox, Bus... Esatto, Bus, Boss... Allora, Toybox ha solamente questo tipo di multiplayer, ovvero ad eliminazione. Certo è che potevano sprecarsi un po' di più e fare una vera e propria gara come il single player. Tu cosa ne pensi? Io penso che per essere l'erede di Micro Machines effettivamente forse era il caso di introdurre diverse altre modalità. Perché sì, l'erede è un po' un remake, tant'è che con molto piacere mi sembra di notare che utilizzino anche il vecchio logo della Codemaster. Esatto. Come adesso si vede sulle vecchie card, sulle carte da poker. E niente, che sarebbe stato carino effettivamente considerato nell'anno in cui ci troviamo inserire effettivamente qualche altra modalità in più. Cioè va bene la modalità sfida, che è quella che siamo affrontando adesso in multiplayer, però magari una modalità, non so, forse di corsa, normale, usando lo stesso principio. Esatto, che ogni personaggio aveva praticamente il suo schermo e la sua macchina e poteva seguire solo ed esclusivamente la sua. Diciamo che il multiplayer pecca un po' di questa mancanza. Io l'ho notato e sinceramente mi dispiace. Esatto. Non per nulla però senza togliere divertimento sul fatto che se si gioca in quattro sicuramente la competizione può portare a un massimo di divertimento. Ovviamente se si gioca in quattro. Noi stiamo giocando in due perché ovviamente la facciamo chiusa. Però questa è. Esatto. Per quanto riguarda il multiplayer credo che essendo povera la parte del gaming abbiamo detto tutto. Quindi nulla. Ah sì. È un vero aspetto negativo questo. Esatto. È una vera pecca che potrebbe poi influire appunto sul divertimento generale. Però nello stesso tempo tant'è. Quindi credo che sia tutto giusto? Sì sì sì. Per me anche. Finalmente d'accordo. Perfetto. Allora visto che è tutto noi vi... E attenzione abbiamo questa grandissima gara all'Ok Corral. Questa sfida attenzione che vede il camion dei generati che scatta in prima posizione a fianco a quella Moon Nates che sarebbe Zio Rex. La fiamma del destino che ci separa in questo grandissimo colpo. La curva della Salsiccia. Attenzione. Porta con sé un fungo ma non ce la fa. Scivola sull'uovo e perde. Perde in un modo assoluto. Scusami se ti interrompo. Scusami se ti interrompo. Scusami se ti interrompo. Abbiamo avuto le ultime classifiche. Per ora lo Zio Rex sembra in vantaggio con il suo decompattatore. Te la linea. Ma alla ribalta c'è il condottiero della stracciatella che taglia e invece viene ucciso da un camion che dedica grandissimi massa di terra. Allora scusami se ti interrompo ma qui è una sfida all'ultimo sangue. Vediamo il gelataio Papino che va in vanscoperta ma l'altro taglia e una battaglia diciamo all'ultimo sangue, all'ultimo ice cream. Vediamo che un razzo parte per aiutare il gelataio che vince. E vince per il rotto del coro. Che bella gara ragazzo è veramente emozionante. Vediamo anche i fornelli che sprizzano fuoco. Ecco che si apprestano sulla linea dell'inizio. Tutti gli automezzi prontamente carichi di bambini o di passeggeri. Ecco che vediamo lo zio Vrex il King Pink che va avanti. Va avanti ma lo zio Vrex gli sta dietro. Non vuole decidere di lasciargli il suo. E il King Pink con una mossa azzardata. Grazie ad un bambino pestifero riesce ad arrivare primo e a eliminare lo zio Vrex. tra mezzi di trasporto questo showdown finale. Vediamo lo zio Vrex che con il suo camion pieno di ragazzini cerca di invitarli a fare una corsa sul posto per accelerare un po' e cerca di prenderlo. Attenzione abbiamo questo rettilineo tra padelle e piante girate. C'è questa pozza di sapone su cui si scivola. E' una curva molto difficile. Vero? Vero zio Vrex. E' molto difficile. E vince il King Pink. Ed esplode il King Pink. Abbiamo visto qualche bambino o qualche alunno che saltava fuori all'ultimo minuto per sopravvivere a questo impatto così terribile. Vediamo il King Pink che va fuori. Evidentemente un bambino aveva distratto l'autista dell'automezzo. Cercavo di prendere la tangenziale. Ha sbagliato. E' purtroppo come si suol dire mai parlare al conducente e questo è il risultato. Il King Pink è praticamente amante dell'andare fuori strada dritto senza la curva. Cerca incredibile rimane in gioco. Rimane in gioco e cerca di purgare. Purgare non zio ma non ce la fa. Non ce la fa la purga. E vince il camion degli hippie. Vediamo che la macchina dello Zio Vrex è capitanata da Al Capone. Non vuole finire. Non vuole perdere. Ma l'elicottero cerca di sbalzarla fuori. Ma resiste. Resiste ancora. Vengo il tuo aiuto. Vengo il tuo aiuto. Lo colpisce. Lo colpisce male. Lo colpisce male. Lo colpisce veramente male. Ma Al Capone tira fuori il mitragliatore. Eccolo. Eccolo che tira fuori il mitragliatore. E cerca di farlo fuori. Ma rimane. Ma no. Forse che mettono il Pepe e il sale nella coda degli uccellini. E Luzio Vrex vola. La battaglia sarà veramente eccellente. E muore sia Kingpin che Zunzio. Attenzione. Luzio Vrex in sino al top della classifica. Cerca di essere il vincitore. Potrebbe essere una sfida agli ultimi tre. Abbiamo tre contententi per la prima posizione. Attenzione. Mai vista una cosa così eccitante. E vinci il Kingpin. Complimenti per questa battaglia così avventurosa. Vediamo il punteggio. Kingpin si mette all'inizio della classifica con 19 punti. Lo Zio Vrex con 18. Cole con 18. E Walter con 9 punti. Noi qui vi salutiamo dall'ippodromo di... A te la linea Kingpin Zero. Dunque ragazzi miei. Sì anche noi li salutiamo. Anzi io approfitto per risentire dalla leggera Lo Zio Vrex. E fare i soldi saluti del caso. Quindi salutiamo Debo Desius. Salutiamo il Kumenda Veneziano. Salutiamo anche tutti gli altri amici che ci seguono. Che trovate il link nella description box. Giusto Lo Zio Vrex. Esatto. Li trovate proprio qui. Sulla descrizione del video. Non potete sbagliarvi. Non potete non leggerli. Non potete non visitarli. Esatto. Allora noi vi invitiamo a commentarci. A seguirci. Alta curve. Altre incredibili. Incredibili storie. Che ancora possono svilupparsi su questo scenario di guerra. Che è sportivo. Che è quello di Toy Box Starboss. E vediamo appuntamento al prossimo video. Grazie per stati con noi. Da Kingpin Zero è tutto. E anche da Lo Zio Vrex è tutto. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.